Ciao a tutti amici e amiche di Andrew's Channel, bentornati ad un nuovo episodio di Rimworld. Wow, è passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho registrato, ma questa colonia non me la dimentico, non me la dimentico affatto. Allora, a momento un po' l'audio. No, forse semplicemente non c'è la musica, ma sento gli effetti. Abbiamo iniziato una coltivazione idroponica perfetta. Il granale di riserva è vuoto. Adesso il devil strength sta andando abbastanza bene, allora potremmo fare una cosa di questo tipo. Iniziare a mettere del mais, se si può. Non si può? Usiamo allora delle patate. Al posto del cotone. Queste ci serviranno un pochino per integrare il granale di riserva, anche se comunque abbiamo veramente troppo cibo. E quanto tessuto abbiamo? Questo è importante, vi spiego perché. Nella ricerca voglio andare a fare la produzione di tappeti. Perché mi piacerebbe fare, ci stavo pensando oggi, una specie di area casino. E voglio cambiare un po' la pavimentazione, voglio fare una cosa a scacchiera qui. Lo vedrete, quando lo vedrete riderete della mia idea, ma sarà veramente divertente. Velocizza, lascio che i ragazzuoli lavorino per i fatti loro. Non voglio interromperli al momento. Intanto qui queste cose le possiamo smontare, perché poi le possiamo prendere. E magari potrebbe essere una buona idea quella di fare una carovana commerciale. Bill come sta? Abbastanza bene, io adesso anche. Una cerva impazzita. Ah, fortunatamente è impazzita, ma c'è una torretta. Sfortunatamente c'è anche Pratt. Che ha 5 in tiro e non ha nessuna arma. Questa cosa non mi piace molto, scusa. Pratt deve prendere un fucile da caccia. Lui dovrebbe essere in grado di sparare. Ok. Muore di sanguata fra 4 ore questa cerva, quindi no problem. Le torrette hanno fatto il loro sporco lavoro. C'era l'idea di ricostruire la famosa No Man's Land. Il problema è che adè al momento... Ai 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 ai. Anthony? Qui c'è da ricostruire il cavo elettrico, ragazzi. Con priorità, perché altrimenti non immagazziniamo l'energia di questo generatore. Mi ero dimenticato, ve l'ho detto, è da un po' di tempo che non resisto. Dopodiché, ok, le torrette abbiamo già dato l'ordine di spostarle, perfetto. Una volta che abbiamo spostato le torrette, vediamo che copertura abbiamo sulla zona esterna. E poi diamo l'ordine di costruire le altre e di rinforzo. Così la prima parte della No Man's Land ce l'abbiamo con le torrette esterne e poi iniziamo col secondo giro di mura, che impiegheremo molto più tempo a fare, ma pazienza, ok. Intanto qui potevo fare il tavolo da macellazione, dicevo. In realtà era una cosa che avevo in mente già da diverso tempo. Questo è tessuto? No. Pelliccia, lana d'alpaca. Così è una coppia. E qui andiamo a costruire praticamente la macelleria. Quindi adesso praticamente la cucina sarà solo cucina e non cucina e macelleria. La carne poi ovviamente deve essere portata nella cella frigorifera, però funziona abbastanza bene. Ma che cosa sta facendo? Quando si riposa alle 21, ok. Ci può stare. Non voglio dare altri ordini. Allora, per oggi lasciamo che le cose vadano così. Qui sotto stiamo lavorando abbastanza acciaio. Le batterie mi sembrano piene, quindi non abbiamo problemi di energia. Ok. Direi che... Direi che può andare. Non sono sicuro se il fatto che la sterilizzazione della macelleria serva o meno, sicuramente servirebbe... Ecco, una cosa che mi avete suggerito voi in realtà e che mi ero dimenticato. Se sterilizziamo il lavoratore di ricerca, la ricerca va più veloce. Quindi lo voglio fare. Il problema di tutta questa sterilizzazione è che poi manca l'argento. che non vedo più. No, a 2.100, va bene. Bill ha fallito con la poltrona, mamma mia. La portiamo a Mal, dai. Allora, Mal ne ha costruita una parte e poi si mette a... No. Ah. Niente, Mal ha lasciato la produzione della poltrona, l'ha lasciata Kramer. E io ho sbagliato, ho gli dato l'ordine di lavorare sulla piastella sottostante. Pazienza, sarà Kramer a fare questa poltrona. E poi Kramer si stufa e smette. E costruisce piastrelle. Ma dai, ma sarà stupido. Finisce questa dannata poltrona. Oh, grazie al cielo. Qualità eccellente, bene. Quindi il macellaio sarà bello comodo. Ok, fantastico. Mettiamoci anche una pianta qui, dai. Ok. Penalità a velocità per temperatura estrema? Ma ci sono 7 gradi. Che temperatura estrema sarebbe, scusate. Cioè... Oh! Erbe mediche 275. E dove le mettiamo le prossime? Le dobbiamo vendere. Qualcuno mi deve spiegare perché ho la penalità della temperatura. Temperatura estrema. Qui non me lo dice, qui nemmeno. 21 gradi di interno. Qui ne abbiamo 6, va bene. Allora, a questo punto andremo a costruire una coppia di stufa. E costruiamo una stufa anche qui dentro. Wow! In cambio di componente ci danno 3 resuscitatori. Che immagino riportino in vita. Mamma mia. I rim. Il problema è che io... Forse 105 componenti, oppure c'è lì a Reim. Mi servono, per le torrette. Siamo a 67 componenti. No, 112. No, grazie. Allora, ricominciamo con la No Man's Land. E facciamo un bel coppia. Costruisci una coppia. Ok. Metto la pausa perché è successo il casino, come sempre. Quindi, esplosione nella Serra del Fieno. Interessante. Chi è sveglio? Selia, dove si trova? Coppis, dove si trova? Niente, sarà Selia ad andare a attivare l'interruttore. Gus si sveglia e va a spegnere l'incendio. Insieme agli altri. Attenzione però perché qui dobbiamo smantellare e tenere la porta aperta. perché se... Dov'è? Dov'è male? Perché se... Questi entrano bruciano vivi. Questi bruciano vivi se entrano. Perché la temperatura viene data come interna ed è un casino pazzesco. Ok, perfetto. Il campo di fieno sembra che brucerà alla grande. Mannaggia. Le uova almeno si scaldano. Che battutaccia. No, è un casino pazzesco questo incendio, ragazzi. Un bel casino. Ci ha bruciato tantissimo fieno e adesso Coppis è praticamente tutto ustionato. Mannamia. E anche Bill. Sì, ma riposati fino a guarigione anziché fare pistola, dai. Ok, per fortuna che abbiamo un po' di cura. Ok, le ustioni sono andate. Mamma mia. Relazioni, cosa succede? Ci sono persone che hanno relazioni con i tuoi coloni Arciere e Quaglia. Penso di essermela persa. Penso che siano andati via. Stop. Mondo. Trattative di pace. Proviamo una carovana. Proviamo una carovana. Ho bisogno di qualcuno che abbia delle buone abilità di diplomazia. E non mi ricordo mai chi ce le ha. Mai. Proprio mai. Celia ce le ha, però è vecchissima. Vediamoci Celia, dai. Celia Pratt. Portano con sé. Le alpaca tutti. Oggetti. Carne di megranio si vende. Gelatina di insetto si vende. Lana d'alpaca si vende. Erbe mediche si vendono. Le sostanze si vendono. Se riusciamo. E direi basta. Ovviamente ci prendiamo anche 500 unità d'argento. E il cibo per il viaggio. Ci ha ripercorso. Per prima cosa andiamo a conversare con questo villaggio. Poi saliamo a fare le missioni di pace. E poi vediamo se riusciamo ad arrivare anche a Onesta 2. Quindi praticamente ci facciamo tre tappe con questa piccola carovana. Ok. Intanto il David Strand abbiamo iniziato a recuperarne un po'. Ma prima di iniziare a lavorarlo voglio che la pavimentazione asettica nel laboratorio sia completata. Tanto qui è avvenuta proprio un bel... È avvenuta proprio una bella macelleria. Con il tavolo lì. E tra l'altro la cucina sembra anche più pulita da quando abbiamo spostato la macelleria. Non so se è una mia impressione però. Chi è senza arma? Anthony. Ma Anthony sa sparare. Eh nì è meglio dargli una spada va bene. Nelly continua a recuperare l'acciaio che poi possiamo utilizzare per le torrette. Ok. Sempre per l'obiettivo No Man's Land. E invece per l'obiettivo Granito siamo a 702 blocchi. Sto pensando se... Sto pensando se... 702... Iniziamo la prima parte della No Man's Land, quindi la seconda cinta di mura. Che metteremo a est, che mi sembra la parte più facile. Le torrette comunque ce le lasciamo perché chi va poi a rompere le mura si trova di fronte alla prima ondata di torrette. E poi dopo altre mura. E altre torrette, insomma. Beh, una bella difesa vorrei. Questo è poco ma sicuro. Comunque abbiamo portato via 250 arbe mediche e le abbiamo ancora 96, quindi da questo punto di vista non è un problema. Ragazzi la sala della ricerca mi sembra completamente asettica, se non per il piccolo fatto che ci sono le cucce dei cani che adesso spostiamo perché non ha molto senso tenerle qui. Quindi le potremmo mettere... Potremmo mettere, ragazzi, sono due cani alla fine. Le possiamo mettere nella stalla con le galline. Nel pollaio con le galline, farla da guardia. Diciamo così. La temperatura all'interno è di 0 gradi, ok? Non è un problema. Ora che... Ah, perfetto, il banco della macelleria adesso funziona bene perché c'è anche una stufa nella macelleria. Perfetto. Perfetto. Ok. Intanto disattiviamo l'interruttore perché le batterie d'emergenza non servono più. Le altre batterie si sono riempite bene. Andiamo a vedere le mura. Alcune già posate. Le prime torrette. Wow. Mi piace. Mi piace ma vedo che qui... Scusate, costriamo delle coppie. Non ho risorse sufficienti, lo so. Pogo ha partorito. Abbiamo un cagnolino. Mutant e Cook. Ne abbiamo due di cagnolini. Questi mi spiace ma li dobbiamo... Li dobbiamo vendere. Quando sarà possibile. Intanto dovremmo arrivare presto alla ricerca della fabbricazione. Grazie a Mal che continua a ricercare con un forsennato. Laboratorio, imponenza poco imponente, ricchezza ricca, di medie dimensioni, vale 4.700. Wow. Neutrale pulizia sterile. Benissimo. Fabbricazione è andata. Mi fai per favore veloce i tappeti. Con la fabbricazione praticamente possiamo fare... Come si chiama? Banche da inventori capaci di progetti high tech. Quindi andiamo nel nostro laboratorio 2. Banco da inventore. Serve l'acciaio per carità però. Non possiamo farlo qui dentro ovviamente. Ok la carovana è arrivata a Grazia. Commerciamo. Ci vendono i cagnolini. Che bello no? Grazie. Vendiamo la carne di ragno. Vendiamo la rana d'alpaca. Questi non hanno assolutamente argento. Lasciate perdere la rana d'alpaca allora. Vediamo cosa ci possono vendere prima di andare... Ah non ho presi... Non ho presi sacchi a pelo. Un'altra volta. Va bene. Beh ci possono dare l'oro. Va bene. E il metto semplice d'oro. Non hanno granché. Una gamba di arco tech. Wow. Un cuore protesico. Io questa gamba la compro perché... Trovarla è secondo me difficile. Però adesso devo vedere se... Vendendo... La mia roba riesco. Eh no. Non riesco. Non riesco perché... Ricominciamo da capo. Non ho abbastanza... Cose da scambiare. Vendiamo la cara di mergranio che è inutile. I farmaci compriamo che sono 44. E in cambio vendiamo la lana d'alpaca. E vediamo di comprare qualcos'altro. Compriamo il plastacciaio. Vendiamo le droghe. Siamo più o meno pari. Ci sta così dai. Farmaci e plastacciaio in cambio di roba praticamente... Un po' inutile che mi... Mi avrebbe semplicemente... Appesantito il magazzino. Adesso andiamo alle trattative di pace. E poi ci spostiamo. Vediamo se riusciamo a vendere le medicine nell'altra... Nell'altro centro. Ok. Dicevamo, il tavolo dell'inventore. Serve un posto accanto ai magazzini. Lo potremmo costruire direttamente qui dentro, sapete? Qui faremo la stanza. Con il tavolo da produzione. E costruiremo anche una... Porta extra. La carovana... Ok. Abbiamo incontrato dei commercianti. Va bene. Ci comprano i farmaci normali. Che non ci possiamo fare niente. Vendono ottime armi. Mitralatrice pesante, lancia d'ardi, scudo energetico. No, non mi interessa nulla. Bene il cammino. Riprendiamo il cammino, ragazzi. Ok. Cos'hanno fatto oggi sulle mura? Altre pezzette di mura. Niente di stratosferico, ma pian piano vanno avanti. Ok, intanto i cani... I cani e i, come dire, i cuccioli stanno insieme alle galline, che nel frattempo ci aiutano anche con le uova. Qui abbiamo rovinato il caldo, non ci posso credere. 26 gradi. Ah no, 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 no. Non sono questi 26 gradi ad aver rovinato le uova. Sono in realtà purtroppo l'incendio ha cotto le uova. Non ci possiamo più fare nulla. È peccato. Intanto guardate che il nostro riso e il nostro mais pian piano iniziano a scendere. Quindi ho fatto bene a iniziare a piantare anche delle patate, perché presto avremo la necessità di nuovo di recuperare il cibo. Io suggerisco qui che adesso queste idroponiche mi vanno a fare il riso per la prossima tornata. Quindi quando vanno... La prossima tornata sarà di cibo. Intanto abbiamo veramente riempito il magazzino di piante curative che possiamo vendere. E un'altra cosuccia che volevo fare... Qui dovrei essere in grado, aggiungi ordine, crea canna di smoke leaf. Ripeti fino ad avere 10. Cancella tutto, tranne... Oggetti, artefatti, no? Manufatti si chiamano. Rinomina. Armadietto di Snoop Dogg. Allora l'armadietto di Snoop Dogg nella zona relax è praticamente una casella in cui andiamo a mettere le canne. Che sono già qui in zona relax. Quindi quando i Rin vanno a rilassarsi dovrebbero trovare le loro cannette che mettiamo come ordine sopra i farmaci. Perché sono le più importanti. Crollo grave di Bill? Why Bill? Why? Amico animale venduto. Morte del mio amico animale Aaron. Affamato. Pagnato fradicio. Abiti logori. Allora, sugli abiti logori vediamo un po' che cosa possiamo fare. Sì, dovremmo ricostruire molti abiti. Sul cibo, caspita. Abbiamo 39 pasti semplici. Abuso di smoke leaf per Kramer. Si è fatto troppe canne, bene. Ok, trattative di pace positive. Scusate, ok. Le trattative sono stati un successo, quindi la collettività della scogliera bianca adesso è meno ostile nei nostri confronti. Possiamo andare a visitare Onesta, Onesta. E fra due giorni dovremmo arrivarci. Bene. Perfetto. Qui non abbiamo alcun... Qui non abbiamo nessun prigioniero, quindi possiamo spegnere le torce. E' un pochissimo Davison strano, perché... Credevo che sarebbe maturato tutto insieme, invece no. Va bene. Facciamo passare questa giornata e vediamo che cosa riusciamo a vendere appena arriviamo nella prossima colonia. Una notte lunga e piovosa. Ok, intanto siamo tornati, guardate, a piantare il riso è già maturo al 45%, riempiremo i granai molto rapidamente. Anche perché poi tra l'altro è a prima angio, potrei anche in teoria... In teoria, potrei anche coltivare all'esterno. Cosa che non voglio fare, però. Allora, fermi tutti, possiamo trasportare fuori i massi, iniziare a dare l'ordine di spianare le superfici, perché sono più belle. E qui guardate che meraviglia, abbiamo trovato anche il materiale compatto, abbiamo trovato dei bellissimi macchinari, componenti in realtà, macchinari compatti. Allora, macchinario compattato e non compatto è il muro, componente è il prodotto. Bisangosato di cibo, bravo, bravo Billino. E' fatto benissimo, Billino. Wow, quanta roba. Devo ricordarmi di riempire però questa zona con whatever, perché non granito, ad esempio, o marmo. Perché non voglio che non ci sia spessore tra l'esterno e questa stanza, altrimenti i nemici potrebbero semplicemente scavare la roccia ed entrarci in casa. Cosa che possono, e probabilmente faranno senza tanti problemi, magari piazziamo una torretta in più in questa posizione. Da caravana ha terminato il cibo, ok? Tanto Kitty continua a recuperare. Dove sono? Hanno terminato il cibo e fra 08 giorni arrivano nell'altra città, quindi poi lo compreranno in questa città. Ci può stare. Qui ci metteremo una vita. Ve lo dico, a spiallare tutta questa zona. E' una cosa molto lunga e noiosa. Facciamo il muro qui di marmo. Chiaramente si inizia senza intrappolarsi. Recuperato i componenti, adesso andiamo a tappare. E oltre al marmo ovviamente dobbiamo fare... Porta d'acciaio, qui ci può stare. No, d'acciaio, che cosa sto dicendo? Eh no, caspita, perché l'acciaio proprio mi manca. Facciamo di granito la porta. Buono. Rabbiosa ha partorito. Ok, continuiamo a partorire dei cagnolini qui, eh. Bene. Intanto siamo per finire il cibo. Fauna! Le volpi, warg e le linci. Andiamo bene. Andiamo a cacciare il mega bradipo maschio. Ti ho anche tanta carne che mi serve da mettere insieme ai vegetali per fare i pasti migliori. Ok, fernese di movimento Nelly. Non sta fermo un attimo. Bella questa cosa. Bellissimo questa cosa. Ma quanto è bella la... La colonia vista all'alto. Contrabbandieri. Questi vengono a piedi. Quindi noi prendiamo Anthony. E con un po' di diplomazia andiamo a parlare a Ryu. Che è il loro capo. Il loro capoccia. Andiamo. Ci ventano un orso polare maschio. Grazie, ma no, grazie. Vedete le droghe. E basta. Non comprono nulla se non... Farmaci e canne. No, mi dispiace. Non fa per noi. I farmaci buoni arrivano. Comunque li abbiamo comprati con la carovana. Anche se Mal li potrebbe fare, ma Mal è sempre impegnato a... Smontare mura, montare mura, fare cose, vedere gente. Ma Mal è sempre impegnatissimo. Mi servirebbe un altro maker. Fatto bene. Che è intanto arrivata la carne di Mega Bradipo, vedo. Eh sì, buono. Ok. Sono arrivato in tempo per godermi onestà. Allora, possiamo vendere? Plastaccia di farmaci ovviamente no. Ragazzi, non comprano le erbe mediche. Questo è un po' triste. Vediamo se c'è qualcosa di buono che potremmo... Orecchi, bionici, stomaci bionici... Nulla di tutto questo. Ci compriamo. Quattro pasti semplici. E torniamo a casuccia nostra. Forse in questo modo mangiano. E va bene così. Sembra che i farmaci d'erbe proprio non... Non li comprino. Non li compri, no? Ci sono le canette? No, eh. Non le abbiamo ancora... Provate. No, in realtà sì che ci sono. Soltanto che non le stanno stoccando... Le stanno stoccando nel magazzino sbagliato. Va bene. Allora togliamo dal deposito grande le canne. Puoi tenere tutto tranne le canne. E anche... Qui. No, qui già le abbiamo tolte. Bene. Allora penso... Eh, benissimo, infatti. Infatti le hanno già portate. Vedete che bello? Cummings e Bill che guardavano la televisione. Grunt che guarda la sedia. Ok. Le sei canette di pronti. Insomma, ti pare che come area relax. I nostri rinno se la passano poi male. Assolutamente no. E non hanno assolutamente voglia... Ecco qui, cosa vi dicevo? Vabbè, sciamo a perdere. Non hanno assolutamente voglia di... Raffinare questa stanza. Ed è un po' triste, ma... Volenti o non volenti lo dovranno fare. Ora quando la carovana arriverà a casa ne faremo immediatamente un'altra vendendo i cagnolini e probabilmente i tessili che sono veramente tantissima roba. Veramente tantissima roba. Potremmo vendere addirittura il cibo adesso con le idroponiche. Potremmo iniziare veramente a... ad arricchirci in questo modo. Perfetto. Kitty continua a recuperare acciaio. Complicazione avanzata. Andiamo sulle capsule di trasporto, ragazzi. Queste sono veramente... Queste cambiano un po' la partita. Le distanze. Comunque non vorrei dire ma ho bisogno di più colonist. C'è tantissimo lavoro per tutti. È anche vero che ho dato l'ordine di... smontare un sacco di roba lungo la mappa. E ho dato l'ordine di lavorare moltissimo le pietre. Scusate questo warg però me lo vado ad ammazzare perché sennò... In realtà tutti i produttori adesso mi vado ad ammazzare. E questo ha portato via un po' di tempo. La... Spero che questa non sia una stanza. Sì. Stanza però... No roof, per favore. Bello che il warg si è ribellato e quindi si è beccato una... No, si è ribellato ma è morto. Quindi non... Pensavo che fosse stata una torretta in realtà no. No, perché non poteva essere una torretta. Va bene. Ok ragazzi, credo che per questo episodio ci possiamo salutare qui. Ok, i sedi a prato arriveranno presto. Chissà chi è che può andare a fare questo lavoro di... Penso sia lavoro semplice o costruzione. E che è la passione? Coppis, spia. Fatemi vedere se riesco a... Non lo vedo Coppis, tra l'altro. Ma dorme. Voglio svegliarlo per far spianare il terreno senza farlo mangiare. Voglio vedere se funziona. Che cosa... Che bisogno sale. Credo che salga la costruzione. Ho l'artigianato o la costruzione? La costruzione sale. E visto che io ho la passione, io lo possiamo veramente far fare. Ok, lasciamo che mangi e poi gli facciamo spianare tutta quest'area così aumenterà tantissimo la nostra costruzione e poi sarà una bellissima zona per la fabbricazione. Praticamente ci metterà una vita, ma... ripeto, poi il grado di bellezza e di pulizia di queste stanze sarà altissimo. Buono. Ok, ragazzi. Bel episodio. Bel episodio. Abbiamo portato a casa un bel po' di medicine che adesso sono qua. 50 farmaci buoni. Abbiamo portato a casa un po' di plastacciaio. Ho svuotato il magazzino. Continuato con l'operatività della nostra colonia. La No Man's Land diciamo che è il... dal punto di vista delle torrette è quasi completata dal punto di vista invece delle mura è al 20-25% ma cerchiamo di completarla in fretta in modo da avere proprio una... un doppio strato di difesa. Nel prossimo episodio... la chiudiamo qui. Capsa di trasporto. Vediamo che cosa succede. Patate. E io non posso che salutarvi con un bel e viva le patate. A presto.